Buonasera ai telespettatori di Rete7, vediamo insieme le notizie di stasera e di domani. Sino al 30 aprile il Torino Jazz Festival, sino a sabato al Palasport del Parco Ruffini incontri di basket valevoli per Under 20 eccellenza. Nella notte consuete operazioni di pulizia meccanizzata con la chiusura dei sottopassi 23.30-1.30 chiude a sottopasso Repubblica Portapalazzo, 2.30-4.30 chiuderà a sottopasso Lanza, ricorso Massimo del Zeglio. Oggi e domani le linee 18 e 93 Barrato, dalle 9 alle 17, da via Passo Buole, sono deviate in via Nizza, Corso Maronceli, via Genova, percorso normale. Sempre oggi e domani le linee 36, Navetta, percorsi scolastici 3 e 5, e le linee 53 e 93 Barrato subiscono deviazioni di percorso. Vediamo le notizie di domani, venerdì 27 aprile, dalle 8.30 alle 14, fase regionale, giochi sportivi studenteschi regata sul Po. Ancora informazioni, dalle 17 in via di Danni, nel piazzale antistante della parrocchia San Bernardino, commemorazione in occasione del 73esimo anniversario della lotta di liberazione. Attenzione perché da domani e sino al 2 maggio, da domani sera alle 20, chiude il sottopasso del lingotto per lavori IREN. Non ci sono altre informazioni di rilievo, restituisco la linea augurandovi buona serata e buon viaggio. A domani!